Le delegazioni dell'Università di Teramo, dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara e quella dell'Università dell'Aquila si sono dati appuntamento sul ghiacciaio del Calderone, versante settentrionale del Gran Sasso, per l'iniziativa Climbing for Climate, arrampicata per il clima proposta dalla rete universitaria per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con il CAI. È una giornata che deve unire ma che deve anche sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche tutto il mondo accademico sulle problematiche dell'ambiente. È una giornata organizzata a livello nazionale dalla Russia, dalla rete università per la sostenibilità. Noi ovviamente abbiamo derito, abbiamo derito in massa e l'idea è quella di raggiungere il Calderone come simbolo di quello che sta succedendo, quindi il ghiacciaio più a sud d'Europa, che forse dobbiamo dire l'ex ghiacciaio più a sud d'Europa. L'evento coinvolge gli Atenei italiani in una giornata dedicata al trekking e alle escursioni in montagna, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'Agenda 2030, attraverso la conoscenza dei territori alla luce degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. L'obiettivo è proprio quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, la conoscenza dei territori su quelli che sono i temi dell'Agenda 2030. Durante la giornata gli enti hanno sottoscritto un appello per la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale locale. Se pensiamo alle risorse idriche, abbiamo noi sulla costa tagli di acqua ormai da settimane, questo ci fa immediatamente capire quanto è importante una riserva come un ghiacciaio, quale il Calderone, che come sapete è il ghiacciaio più importante degli Appennini, il più a sud d'Europa. Per noi è veramente una riserva importantissima, per cui bisogna sensibilizzare le nuove generazioni, ma anche poi noi che viviamo su questa terra in prestito. Abbiamo un sistema che dobbiamo cercare di lasciare meglio di come ce l'hanno in qualche modo lasciato i nostri padri. Purtroppo, come sapete bene, tutto ciò non sta avvenendo, quindi abbiamo le risorse idriche a rischio, ma abbiamo un po' l'ambiente in generale che soffre della pressione antropica, di ciò che sono le nostre attività che mettono a repentaglio queste nostre risorse. Grazie a tutti.